Il Presidente Podestà ha intervenuto alle celebrazioni per il 150enario della Corte dei Conti sul tema la tutela delle risorse pubbliche, le esperienze di 150 anni e le sfide future. L'aspetto invece per il quale in questa occasione si è molto discusso, direi a livelli molto molto elevati e competenti, è quello di capire cos'è il ruolo, qual è il ruolo oggi della Corte dei Conti. E mi sembra che emerga una indicazione precisa che non è soltanto il controllo contabile, ma sempre più un controllo ma anche uno stimolo in termini anche di dialogo con le altre istituzioni, di consulenza se vogliamo, di confronto di interpretazioni, in modo tale che si riesca ad avere una comune tensione per il raggiungimento del bene comune, del bene pubblico. Da questo punto di vista questi 150 anni della Corte dei Conti hanno portato a queste riflessioni che non sono risolutive ma che pongono una tematica che insieme bisogna sapere affrontare e bisogna portare a sintesi, a soluzione, ancorché il momento non sia facile e ancorché, mi si lascia dire, la complessità e molte volte la contraddittorietà del corpo delle leggi renda tutto molto più difficoltoso.